Il settore dei pagamenti è in rapida evoluzione per affrontare il nuovo scenario di mercato. Il gruppo ICBP sta portando avanti un ambizioso progetto industriale che prevede la creazione di un polo nazionale. Setefi è già stata acquisita ed è in via di definizione anche l'acquisizione del gruppo Basilichi. Qual è la strategia che ha guidato queste operazioni? I fondi che hanno fatto l'acquisizione dell'Istituto Centrale delle Banche Popolari avevano maturato nel corso degli ultimi anni una grandissima competenza del settore dei pagamenti con l'acquisizione di WorldPay e l'acquisizione di Nez. In paesi, soprattutto i paesi nordici, dove lo sviluppo dei pagamenti elettronici è stato molto forte nel corso degli ultimi anni. In Italia hanno visto grandi opportunità e queste grandi opportunità sono rappresentate dal fatto che da un lato il sistema di pagamenti elettronici in Italia è poco sviluppato, le transazioni elettroniche sono basse, l'Italia utilizza ancora all'80% il contante per le transazioni, ma paradossalmente l'Italia è un paese che ha un'infrastrutturazione importante nel sistema dei pagamenti elettronici perché il numero di POS disponibili in Italia è uno dei più elevati a livello internazionale. E quindi il potenziale di crescita in un mercato così sottopenetrato come l'Italia è un potenziale molto elevato. Dall'altro lato l'opportunità che è stata rappresentata inizialmente dall'Istituto Centrale nasceva dal fatto che nel corso degli anni l'Istituto è cresciuto per acquisizioni conquistando un posto importante nel sistema dei pagamenti italiani e questo è stato visto come lo strumento ideale per crescere e per favorire una penetrazione maggiore dei pagamenti elettronici in Italia. Di lì si è sviluppata una strategia molto ambiziosa e molto impegnativa anche in termini finanziari perché complessivamente fino ad ora i fondi hanno messo a disposizione quasi 3 miliardi e mezzo di euro per gli investimenti. Si è realizzata l'acquisizione di Setefi, è in corso di definizione l'acquisizione di Basilichi e quindi l'idea è quella di creare in Italia un fortissimo polo di pagamenti che possa poi rappresentare un campione anche a livello europeo. Come affronterà le sfide europee il nuovo polo ICBP? Hai in mente acquisizioni anche in altri paesi? Direi che oggi l'obiettivo è quello di consolidare la presenza in Italia e di favorire lo sviluppo del mercato italiano che oggettivamente presenta delle grandi opportunità. direi che nel momento in cui si sarà consolidata e razionalizzata anche la presenza attraverso gli investimenti fatti a quel punto si potrà pensare un'espansione all'estero, però oggi è ancora prematuro parlarne. Per consolidare la presenza in Italia, come appena detto, pensate di aggregare altri operatori del settore dopo Setefi e Basilichi? Direi che prima di consolidare le acquisizioni già annunciate ci vorranno parecchi mesi perché sono soggette a tutta una serie di autorizzazioni sia da parte della Banca d'Italia sia da parte delle autorità di presidio della concorrenza e quindi ci vorrà molto tempo. Quando saranno consolidate queste acquisizioni allora si potrà pensare al futuro. Quali sono gli elementi caratterizzanti del primo piano industriale del gruppo ICBP dopo il passaggio a Mercuri? L'istituto deve diventare un campione in termini di qualità di servizio e per andare in questa direzione bisogna potenziare soprattutto la componente di servizio elettronico e di servizio infrastrutturale. Quindi il piano sarà concentrato soprattutto sulle modalità per migliorare la qualità del servizio al cliente e per favorire l'innovazione in termini di sviluppo dei sistemi di pagamento innovativi. Quanto sono strategici i pagamenti innovativi per lo sviluppo dell'economia italiana? Il sistema di pagamento elettronico è fondamentale per la crescita del Paese per una serie di ragioni. Prima di tutto ovviamente il fatto che fa emergere e contribuisce all'emersione di una parte dell'economia. Il fatto di utilizzare pagamenti in contanti è un fatto abbastanza caratteristico di economie meno sviluppate dove tra l'altro si realizza un elevato grado di evasione. In secondo luogo il costo del contante che è molto elevato, il costo della gestione del contante è molto elevato e quindi ridurre il contante significa risparmiare sui costi di gestione del contante. Ma più in generale io direi che il contante va a detrimento del potenziale di crescita dell'economia perché i pagamenti elettronici comportano una disciplina, comportano la necessità di organizzare le imprese in modo razionale, di costruirsi dei canali di vendita più efficienti e più efficaci e quindi il potenziale rappresentato dai pagamenti elettronici è un potenziale di crescita dell'economia. È un potenziale che quindi va sfruttato e che va a beneficio dell'insieme dell'economia. I pagamenti elettronici sono per un'economia come quella italiana che ha dimostrato tra l'altro di sapere utilizzare la tecnologia in termini di crescita perché la tecnologia mobile si è sviluppata molto intensamente in Italia e quindi i pagamenti elettronici rappresentano un naturale sviluppo di quella diffusione di strumenti elettronici che in Italia ha trovato poi terreno molto fertile. Come Cartasia avete condotto un importante progetto cashless a Bergamo. Quali risultati sono stati ottenuti? L'esperienza di Bergamo come cashless city è stata un'esperienza molto importante e molto positiva. ha dimostrato che quando si sviluppa un'attività di formazione e di incentivazione all'uso delle carte di credito il contante diminuisce. L'utilizzo delle carte di credito a Bergamo è cresciuto del 10% quando in città più o meno equivalenti si è registrato nello stesso periodo una crescita di circa l'1-2%. Quindi direi che quella è stata un'esperienza importante che ha diffuso lo strumento presso una parte più importante della popolazione ma soprattutto ha fatto capire l'utilità delle carte di credito e la comodità dei sistemi di pagamento elettronici. Siete stati tra i primi ad aderire al Salone dei pagamenti. Perché e che cosa vi aspettate da questo nuovo appuntamento organizzato da Abbi Servizi in collaborazione con Abbi? Ma direi che l'iniziativa dell'Abi su questo tema è un'iniziativa molto importante che coinvolge parecchi operatori, che coinvolge le amministrazioni pubbliche e che coinvolge soprattutto gli operatori economici. Quindi uno strumento di diffusione così importante come un evento organizzato dall'Abi vale la pena di essere sostenuto e incentivato. Direi che dal nostro punto di vista l'opportunità è grande perché a novembre sarà praticamente un anno che i fondi hanno fatto l'investimento, hanno incominciato a lavorare, hanno definito una nuova struttura di governance, hanno preparato il nuovo piano industriale. Quindi sarà un'occasione importante per presentare e discutere il lavoro che è stato fatto e soprattutto per definire gli obiettivi futuri.